Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, levo là, eccomi qua Mon mia bella mora, no non mi lasciare Bene Dobbiamo parlare di una cosa importante, premietto Premietto in questo sacchettino di Sephora, come vedete in tonso c'è ancora l'etichetta quindi non è stato usato Ho messo qui il premietto che ho pensato di darvi per il mese di maggio Sostanzialmente qui dentro ci sono due best seller della stagione Anch'io ce li ho e sulla qualità, durata eccetera vi garantisco Abbiamo questa confezione che contiene Non ve l'apro neanche così, resta proprio bella, nuova, nuova, nuova The longer the better, sia il mascara Di Laila The longer the better, hyper extension E la matita che si chiama uguale, matita occhi Nerissima Come questi capellucci E quindi è, secondo me è un bel regalino E vi potete deliziare con un trucco occhi Si fate matita, mascara, Xiaomi Il trucco occhi è fatto In più, non sto lì neanche a farveli vedere Una serie di omaggini, di cosine che mi hanno dato Ve ne cito, uno per tutti Questo qui è un mini size Del famosissimo Advanced Night Repair Il siero No? E di Estée Lauder Ed è una mini size Ve la faccio vedere che è troppo bella Poi ci sono anche altre cose Ho la Plex, eccetera Guardate, non è un amore Non è un amore Advanced Repair Night Repair Di Estée Lauder In mini size Scusate, l'ho aperto perché L'ho fatto con molta delicatezza Credo che siano 7 ml Ma guardate che vi dura E poi ci sono omaggini di Olaplex Di Shiseido Questo qua di Shiseido è stupendo È una È una spuma lavante Ma questa io l'ho usata No, non questa E questa credo che sia anche questa No, è una mini size anche questa Non è un campioncino È una mini size Cioè è la confezione Quella grande, identica Nel tipico packaging Shiseido Ma Solo è più piccolina E sono 15 ml Comunque vi ci lavate il viso E altre cosine Campioncini di fondotinta Di diverse shade Quindi sicuramente trovate la vostra E questo è Il pregnetto Dove lo metto? Dove lo metto? Allora Le regole saranno le solite Però ho pensato di fare proprio un video Per illustrarvele bene Allora Praticamente Tra tutti coloro Tutte e tutti E tutto Che Scusate Faccio così per dare più Corpo a questa pettinatura No, a parte di scherzi Le regole sono queste Mettete un commentino Sotto questo video Dovete essere iscritti al mio canale E mettere un commentino Qui sotto Quindi le regole sono semplicissime Io a mio giudizio Sceglierò un commentino E poi scriverò alla persona Pubblicamente dirò Chi ha vinto Poi scriverò alla persona Ci metteremo in contatto Mi darà un indirizzo Un fermoposta Quello che volete Tanto tenete presente Tutti gli indirizzi Che voi mi avete dato Io li ho buttati via tutti Non li conservo Così la vostra privacy È tutelata E quindi Tutte le ricevute Che mi dà anche il corriere Io butto via tutto Quindi Che cosa vi volevo dire Quindi queste sono Le cosine per Per maggio Poi non so Magari ci aggiungerò anche Qualcos'altro Io intanto che il tempo passa Dunque Questo video Credo che sarà pubblicato Intorno Al 5 di giugno Quindi Io Darò una scadenza Il 5 giugno Che giorno è Dunque Se Oggi Registro che è di domenica Ed è il 2 giugno Il 3 è lunedì Il 4 è martedì Il 5 è mercoledì E quindi Mercoledì Facciamo la scadenza Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Dai Facciamo che Sabato sera O domenica sera Al massimo Estraggo il commentino Ok E quindi Ci sono nei tempi Perché poi il 15 partiamo Va bene Sì dovremmo essere Cioè come ho detto Che il 15 è mercoledì Il 5 Scusate Mercoledì Giovedì è 6 Venerdì è 7 Sabato è 8 Domenica è 9 Perfetto Perfetto Il 9 Entro il 9 L'8 Preferibilmente O massimo il 9 Estraggo il commentino Così se voi Mi risponde La persona che vince Se mi risponde Nel giro di un giorno o due Io posso spedire tutto Magari entro il 10 Di giugno Ecco Il 10 L'11 Va bene Perfetto Quindi Vi ricordo che ci sono La mascara E la matita Super super virali Di Vi ce li ho anch'io Non vi dico Sciocchezze Eccolo qui Questo è il mascara Io lo uso E' ottimo Longer The longer The better Hyper extension Ha questo scovolino Fantastico Ecco Che è un pochino Un pochino Ecco E' un po' Leggermente A piramide Ma non tantissimo E' super nero Vi dura Non fa i pezzetti E' veramente Di grande qualità E La matita Vediamo se riesco A recuperarla Che qui Insieme alle altre matite Io Separo le temperabili Da quelle che non si temperano Questa si tempera Eccola qua Questa è la matita Ed è veramente Veramente Super nera Adesso magari Ve la faccio anche vedere In azione E' super nera Guardate che roba Adesso vabbè Io non ho Non ho Cioè la punta Andrebbe fatta E' scorrevolissima Super nera Vi dura tutto il giorno E' anche sfumabilissima E' morbidissima Io la sfumo Per esempio La sfumo Zac zac Tanto mascara E siete a posto Per tutto il giorno E in più appunto Tutti i campioncini Cosini Con cui vi potete Dilettare Un bacione Fate quello che vi fa Stare bene E alla prossima Commentate Commentate Se volete vincere Il premietto Commentate Come pazzi Come pazze Come pazzo Come pazzo Come pazzo Come pazzo Non ho Come pazzo